Non siete di queste parti, vero? Brooklyn! No, per favore! Non abbiamo fatto niente, ma scappate! No, non abbiamo fatto niente! No, non abbiamo fatto niente! Abbiamo un diritto almeno a una carriera! Vogliamo fare una carriera! Nome, Mario. Cognome, Mario. Va bene, tu come ti chiami? Luigi. Luigi, Luigi? Luigi, ma... Un momento, quanti Mario ci sono tra tutti e due? Ce ne sono tre! Mario Mario e Luigi Mario. Mike! Mike! Toglimi dalle scatole questi tre Mario!